Una potenza emotiva ideale per raccontare dal punto di vista cinematografico un territorio molto suggestivo, a tratti misterioso ma anche complesso, come l'anima dei personaggi chiamati a viverlo con le loro storie. È un gioco di parole a definire la notte più lunga dell'anno, film prodotto dall'importante società italiana Clipper Media con produzione esecutiva della potentina Sirio Studios, girato in poco più di tre settimane fino al prossimo 30 marzo tra il capoluogo e la vicina Avigliano. Tra gli altri a sostenere il progetto la Lucania Film Commission, il GAL percorsi e l'amministrazione comunale potentina. I dettagli sono stati svelati alla stampa presso il teatro stabile. Un film su Potenza e questo ci riempie ancora di più di orgoglio perché è stata scoperta la nostra città anche sotto questo aspetto e con a giudicare insomma da quello che ci è stato detto dal regista, dai produttori, è una città che ha un grande potenziale. I protagonisti vivono all'interno della città di Potenza, tutte quante le riprese sono nel centro storico ma anche in altri quartieri della città. Speriamo, come sarà di certo, che il film abbia un grandissimo successo. Questo ci consente anche di cavalcare l'onda di quella che è una loro constatazione, cioè come 7 cinematografico Potenza risulta davvero davvero molto interessante. Sicuramente un ritorno d'immagine a livello nazionale e internazionale per la città. Potenza si presta tantissimo a livello cinematografico e quindi è stata veramente un'occasione importante diciamo per tutti, per la città, per noi. La pellicola attesa nei festival con uscita al grande pubblico entro dicembre vede intrecciarsi diverse storie fatte di ansia e speranze scritte da Lucano Andrea Di Consoli appositamente per l'ambientazione a Potenza. A dirigerla il regista Simone Aleandri, già in Basilicata per il documentario Mater Matera. Le preoccupazioni sono molte, siamo tamponati continuamente, gli ambienti devono essere sanificati, questo ovviamente rallenta i tempi e aumenta i costi della produzione. Ancora devo finire di girare però sono molto contento, ho ricevuto molta ospitalità e calore da questa città. Nel cast Massimo Popolizio, Renato Carpentieri, Matteo Carlo Magno, il promettente Luigi Fedele ed i grandissimi Alessandro Haber e Ambrangiolini. È un film particolarmente bello, io questa storia l'ho letta, sono forse il primo a leggerla, faccio una partecipazione, è la vita, il quotidiano insomma, però visto da un buco di una serratura insomma, va bene, è una bella serratura. L'ho accettato perché il regista mi sembra una persona capace e perché certe volte chi se ne frega del compenso, chi se ne frega di tutto, in momenti come questi bisogna accettare di lavorare, di dare buon esempio. Tra l'altro ci tenevo a dire che Potenza per quello che ho visto alle riprese è una città che ha una potenzialità europea anche a livello proprio di sguardo e di quello che ci ha regalato in questo film che è davvero sorprendente.